Buongiorno, benvenuti a questa è la segna stampa di oggi sabato 14 marzo. Diciamo così che il mio virus se n'è andato, almeno spero, bisognerà fare due tamponi per poterlo certificare in maniera assoluta. Se n'è sicuramente andata la febbre in questo momento. Quindi domenica sera, quando ho fatto, quando stavo male, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Quindi diciamo che i cinque giorni e la paura è, ahimè, per me, anzi per fortuna è passata. Certo, non per tutti quanti gli altri, quindi ne parleremo in questa rassegna stampa che come sempre ho fatto in questi giorni. E vi dico subito, quindi che sto bene, qualcuno me lo chiede, tanti di voi me lo chiedono, Alberto, come stai? Sto bene. Corrado, ciao, vedo che Corrado spesso viene tra noi, ce lo ricordiamo, è vecchio mio amico, quindi lo saluto e ne colgo l'occasione per salutare i tanti che mi hanno scritto mail, messaggi, insomma, in realtà io ho avuto una brutta influenza. Le cose gravi non sono avvenute qua con me, le cose gravi stanno arrivando e stanno avvenendo in Lombardia e di questo ne parleremo dopo e vediamo come e perché. Allora, una cosa di cui oggi tutti quanti i giornali parlano è ci siamo riappropriati dei balconi ed è una cosa che mi fa piuttosto innervosire. Nel momento in cui sono morte 1100 persone, 446 tra gli 80 e gli 89, 360 tra i 70 e i 75, ma anche 80 tra i 60 e i 65 anni, questo è il report dei morti, secondo voi il fatto di essersi appropriati dei balconi e fare quattro canzonette del cazzo è un grande successo dell'Italia finalmente unita? No, io penso che un grande successo dell'Italia unita sarebbe fare un ospedale da campo alla Fiera di Milano, appello che ho fatto ieri sera, invece di tutte queste minchiate, il mandolino, i fratelli d'Italia, la bandiera d'Italia, noi tutti quanti uniti, fino a ieri giocavamo e facciamo finta di nulla. Beh, insomma, secondo me sarebbe interessante fare un ospedale più che fare una canzoncina. Tra l'altro l'ospedale i soldi li metterebbero dei privati, che ho sentito in queste ore, in questi giorni, molto danarosi e che un po' di soldi li darebbero, un bel po' di soldi li darebbero per poter fare un ospedale, ma l'ospedale non si può fare perché la protezione civile non è in grado di farlo. Voi dite è una cosa complicata fare un ospedale, è chiaro che la protezione civile non può. Io vi segnalo, cioè sui giornali di oggi, anche se a pagina 10, mentre facciamo la retorica, Repubblica oggi di che cosa si occupa, Merlo? Il primo weekend senza weekend. E chi se ne frega? Ma che vuol dire il primo weekend senza weekend? Sono quelli che sono diventati tutti Giuliano Ferrara, che amano vedere come scrivono, più di quello che dicono. Che cazzo me ne frega che il primo weekend senza weekend, quando ci sono mille morti in Lombardia e non riescono a risolvere il problema delle terapie intensive e non riescono a trovare le ventilazioni. Il primo weekend senza weekend. E io che canto sono un italiano con un partigiano come presidente al balcone. ma mi sembra una roba ridicola. Cioè si passa da Boris Johnson che dice attenzione perché probabilmente avrete dei lutti nella vostra famiglia a noi che cantiamo la canzoncina e ci riappropriamo dei balconi. Ma che vuol dire? Ci riappropriamo dei balconi! Ma è una roba che ci siamo riappropriati dei balconi, vi giuro! Ci siamo riappropriati dei balconi. Noi siamo un paese che si merita Conte. Si merita Conte, tant'è che sta salendo nei sondaggi. Mi sembra di averlo visto sul Corriere della Sera. Bene, io sono felice di essere dall'altra parte. Cioè, se quello sale nei sondaggi, io sono la minoranza della minoranza. Mi ritrovo come quando ero ragazzino che votavo un partito del 2%, il Partito Liberale, 2%. Sono una minoranza nella minoranza se questo paese pensa che Conte sia la soluzione. Ma andiamo avanti. Mieli oggi sul Corriere della Sera dice beh, dopo gli errori iniziali, Conti si sta muovendo. Un decreto per gradi. Insomma, la marchetta di Mieli a Conte. Ma in realtà, siccome soltanto un paio di giorni fa aveva discusso con Travaglio in televisione si era permesso Mieli di fare qualche piccola obiezione a come si era mosso Conte. Peraltro, voglio dire, in tutto il mondo queste obiezioni detto tra noi si potranno pur fare al Presidente del Consiglio visto siamo quello che ha il maggior numero di morti e di contagi in tutto il mondo. Beh, insomma, Travaglio se la prende con Mieli e fa il suo solito pezzo. Travaglio scrive il solito pezzo da una settimana e cioè ci spiega perché abbiamo Winston Churchill nell'ora pubbuia che ci sta guidando a Roma e per fortuna che c'è lui e non abbiamo nessun altro problema. Cos'è che ha scritto? Bello, bravo e buono. Nel frattempo la questione dell'ospedale che non vogliono fare in Lombardia alla Fiera di Milano dopo in due giorni hanno già individuato il modo per farlo e si contrappone a un'altra grande barzelletta che sarebbe da ridere se non fosse da piangere per farvi capire cosa cavolo sta succedendo in questo paese. Noi zitti, quelli fanno i decreti, no? Ci vuole più coraggio, dice la Lamorgese facciamo i decreti e il coraggio ovviamente col culo nostro, no? Non con la Lamorgese che sta al Ministero con la sua macchina blu che la porta in giro e che può fare quello che gli pare con tutti che si scappellano appena la vede, no? Il coraggio è sempre quello degli altri ma comunque fatto con i decreti di quella che sembra coraggiosa ma la cosa straordinaria è che dopo settimane sono arrivate 200.000 mascherine in Lombardia dopo settimane sono arrivate le mascherine in Lombardia inutilizzabili Gallera oggi scrive sembrano stracci l'assessore alla salute della Lombardia sembrano stracci cioè il punto fondamentale è che questi dopo settimane hanno mandato le mascherine in Lombardia che fanno cagare e noi facciamo i balconi, no? noi ci siamo riappropriati dei balconi riappropriamoci magari di una mascherina nella zona in cui c'è il contagio invece di riappropriarci dei balconi ma in realtà non si può disturbare l'operatore tutti i giornali sono là belli schierati con Conte l'uomo che da solo risolverà il problema insieme a Casalino ermutanda del grande fratello andate avanti così nel frattempo sono andate deserte le gare della Consip per ventilatori, mascherine amuchina deserte allora voi vi rendete conto che noi abbiamo ancora le aste della Consip e che sono andate deserte cioè in un paese normale secondo voi in un paese normale si fanno le aste della Consip in un momento di emergenza non si prendono non si requisiscono cioè avete tolto le libertà a noi e non togliete la libertà diciamo al mercato in un momento requisendo tutto quello che c'è in giro è fantastico sono state sono state e sono andate deserte complimenti all'idea geniale perché poi ci sarà stato Borelli che avrà detto sta lì che fa soltanto il conto dei morti Borrelli il grandissimo capo della protezione civile Arcuri che sta facendo? Arcuri si sta occupando sicuramente del subcommissario Conte sarà là dicendo quanto sei bravo quanto sei bello mentre lui si fa queste sue foto in posa come se fosse l'uomo che piace alle donne in realtà purtroppo prima ce lo togliamo dalle palle è meglio e meglio sarà nel frattempo il Sole 24 ore si occupa della Corporate Italia cioè nel frattempo mentre questi fanno i fenomeni abbiamo aziende come le Generali che valgono 18 miliardi in borsa l'Eni 24 miliardi intesa 25 miliardi e quello che dice il Sole 24 ore sapete cos'è? che con una mano ce le prendono queste aziende cioè ce le possono fottere con una mano con una mano cioè perdiamo il perdibile in questo paese sapete che io sono un liberista sono un uomo di destra penso che il mercato vinca su tutto ma questo non è mercato in questo momento abbiamo la Lagarde abbiamo Conte cioè questo non è il mercato questo è un errore della storia per cui ci siamo trovati la storia non fa mai errori ci siamo trovati nella peggiore situazione del mondo con la peggiore classe dirigente del mondo e quindi l'idea che qualcuno ci possa scippare le nostre grandi aziende non per meriti di mercato ma perché siamo dei cazzoni beh questo veramente mi preoccupa poi oggi i giornali sono ridicoli sul recupero di Milano perché non sanno fare neanche 2 più 2 voglio dire ieri dopo la Lagarde Milano ha perso il 17% avete capito? toc toc 17% ieri Milano ha ripreso il 7% vi sembra un recupero? tra l'altro 17 se avesse perso il 17 un giorno e il giorno dopo recuperato il 17 non sarebbe arrivato al giorno al valore del giorno prima no? matematica se tu perdi da 1000 il 17 e quindi scendi a 93 e poi guadagni 83 e poi guadagni il 17% non ritorni a 100 ma non abbiamo neanche recuperato il 17 abbiamo recuperato il 7 dall'inizio Milano Finanza ve lo spiega bene dall'inizio della crisi abbiamo perso il 36% 40% di valori in meno del mercato un disastro un disastro un disastro che lo pagate nei vostri fondi pensione nelle vostre tasche mentre il governo sta lì che oggi spero faccia il decreto voglio vedere quel decreto come si occuperà del mio tabaccaio come si occuperà del mio carrozziere come si occuperà della mia fruttivendolo come si occuperà del mio tassista come si occuperà di tutti i lavoratori autonomi che non hanno nessuna voce in capitolo nel frattempo i sindacati si lamentano perché i loro dipendenti debbono lavorare meno 3 del mercato ve ne ho parlato Iacometti oggi parla della questione del debito pubblico che aumenterà ed ha secondo me dice la cosa giusta Sandro Iacometti e cioè questa idea che aumenteremo di 40-50 miliardi il deficit lo scrivo anch'io e tra poco ve lo farò vedere in realtà poi lo pagheremo non vi preoccupate perché Ursula adesso fa finta di fare il fenomeno allarghiamo eccetera ma Ursula come dice bene molto bene oggi Iacometti finta solidità l'Italia alla fine verrà bastonata dalla Commissione Europea sulla Lagarde io signori vi devo dire la verità bisogna leggere assolutamente il pezzo di Tony Damascelli sul giornale la signora Lagarde la donna che non ha mai combinato nulla nella vita se non essere una schiavetta diciamo di Nicolas Sarkozy il suo grande unico merito è stato quello è quello di trovarsi capo del Fondo Monetario Internazionale doveva diventare capo del Fondo Monetario Internazionale Strauss-Kahn che è una specie di Weinstein così è stato stabilito dai francesi e quindi dopo averlo fatto fuori hanno scelto la Lagarde beh sulla Lagarde usa una battuta micidiale Tony Damascelli che una volta fece l'avvocato Agnelli su Giovanna Melandri pare questo scrive Tony Damascelli un pezzo divertentissimo anche quello di Parietti vicino è divertentissimo quello di Mascelli mi ha fatto scompisciare qual era la battuta che aveva usato l'avvocato Agnelli sulla Melandri sembra una segretaria ma non è la mia e questo riguarda la Lagarde comunque il pezzo è tutto quanto da leggere Trump si accorge dell'emergenza e la dichiara e Johnson invece continua per la strada inglese anglosassone cioè preparatevi a dei lutti ma nel frattempo sta preparando gli ospedali così sembrerebbe almeno leggendo il Daily Mail di questa mattina infine mi sembra fantastica questa idea che noi abbiamo sempre detto Schengen è intoccabile gli immigrati devono arrivare in Italia e non si può chiudere le frontiere eccetera le stanno chiudendo le frontiere le stanno chiudendo Polonia Slovacchia Repubblica Ceca e Danimarca quando fanno i fenomeni e dicono che non si possono chiudere le frontiere in realtà le frontiere le chiudono nel frattempo lo minaccia anche Macron di chiudere le frontiere io la trovo fantastica quando ci sono le mercenze le frontiere le chiudono così come quelli i tedeschi non ci vendono le loro mascherine quando sono in emergenza ognuno fa la sua nazione cioè è il solito principio diciamo mutualistico quando state male voi vabbè quando sto male io ci si pensa straordinario io direi che per oggi è tutto vi dico e vi ricordo soltanto e vi lascio soltanto con questo appello invece di adottare un balcone invece di canzare la canzoncina della straminchia pensate che l'unica cosa che dovremmo fare è costruire come è già previsto dalla regione Lombardia dall'ente fiera da miliardari che sono disponibili a mettere i loro soldi un ospedale con le terapie intensive in Lombardia e invece Conte Arcuri Borelli e sta cazzo di burocrazia romana pensa a mandarvi 200.000 mascherine inutilizzabili questo è il fenomeno del governo di Winston Churchill all'italiana ciao